E ora cambiamo argomento, ci occupiamo di nuovo dell'operazione Netto Ayage perché a Domenico Iuliano sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ieri sera l'imprenditore molisano, coinvolto nell'inchiesta per una presunta maxifrode, è stato scarcerato da Rebibbia e ha fatto ritorno a Fornelli. L'attenuazione della misura cautelare è stata disposta dal Tribunale del Riesame. Domenico Iuliano, l'imprenditore 37enne di Fornelli, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Netto Ayage, esce dal carcere romano di Rebibbia dove era detenuto dal 21 luglio scorso. Da ieri si trova ai domiciliari nel paese d'origine. Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha accolto l'istanza per l'attenuazione della misura cautelare presentata dal legale Arturo Messere lo scorso 8 di agosto. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Isernia, coordinata dal Procuratore della Repubblica Paolo Albano, lo ricordiamo, è incentrata su una presunta evasione fiscale da 33 milioni di euro, fatture false per 2 milioni e mezzo, riciclaggio di denaro per 3 milioni di euro. Oltre a Iuliano, definito dagli inquirenti il dominus dell'attività illecita, indagati anche l'imprenditore edile sportivo Isernino, Domenico Cicchetti, per il quale già in una primissima fase erano stati concessi i domiciliari ed ora sottoposto all'obbligo di dimora, il commercialista romano Walter Antinucci e l'imprenditore Giannino Giorgi. Dunque nella serata di ieri, senza essere scortato dalle forze dell'ordine, Iuliano è tornato a casa a Fornelli. L'attenuazione della misura restrittiva era tutt'altro che scontata, vista la gravità dei reati ipotizzati dagli inquirenti. Di qui la soddisfazione del legale. Sono molto soddisfatto, era quello che mi aspettavo. Ora sto studiando le ulteriori misure da mettere in campo a difesa del mio assistito, ha riferito telefonicamente l'avvocato Arturo Messere.